Ciao ragazzi, questo probabilmente da tutti i video che sono usciti a Rimini sarà il più confusionario Sono semplicemente io che faccio calisthenics qui in fiera come capita Spero che il video vi piaccia, in questo caso lasciate like, mi raccomando se non avete ancora fatto E iscrivetevi, ciao ragazzi, guardatevi il video Avevo detto che portavo il 360 e mi spesso a Rimini Grazie Ricaricare il fascista E' un po' di funcione Tutto Vai giù, un po' di ignoranza con i jeans Toast e rugginite, ci piace Il caffè, ci piace Mi piace Mi piace Mi piace Pazzo che sbarro di merda ragazzi Io ti muro in gioco a tutti e stacco No basta Un po' di Un po' di intel E' però請 10 Extro Elezione normale L'agente ha mai qua ormai livelli effici di ignoranza, come al solito eh oh quando arriva questo qua, va, si capisce più niente qua tutti qua che gli staranno qua vedete tantissimo io non c'è nessuno io sono vero anche un pisello grosso c'ha eh anche un pisello enorme c'ha di un altro qua eh ma c'è dislivello eh eh ma è colpa di... siete cazzoletti in cinque minuti di scusa una cittara di one arma o... ma faccio mai due metri a diverticare? ah fratti io mi sto davanti a chi? e vabbè c'hai anche le braccia davanti a chi? una miseria che si io ho il finocchio questo qua, attento, posso venire io oh vedo che ti scomi in palestra a posto guardo il cazzo dei flutti guardi oh oh Grazie a tutti Ora, domenica mi massaggerà Com'è amore, mi piace? È meraviglioso Scu 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti